Il nome di questo creator che vorrei sfidare un creator Eccolo, Code de Anad, Boss e Host Anche io da grande voglio essere come lui Allora, io forse avrò il creator però non si sa Però volevo sfidare un creator di Istanbul pure se non lo so Ovviamente lui sa mazzerà perché sta facendo i provini Io il team ce l'ho già quindi provini Però volevo sfidare quelli là che stanno provando a fare il progetto Provino Ok, c'ho questa qua Ho ancora un po' di anna rispettata Vediamo se riesco a vincere prima di tutto e non lo so Vai qua Vai qua Vai raga andiamo qua Ok Raga ma ne mancano dieci Vai qua spacca questo blocco Vai di qua No! Ok, ragazzi vede che sono tutti forti però Forse mi qualifico Ok Come ti permette ad avermi dato il pugno? No, io manco le lu... Madonna se mi beccava Vabbè Vabbè a parte che qua i recuperi sono easy da fare Basta far così Ok raga Vediamo Vediamo che aspetto Ah ma è il blog Dash Legendary Ok Ok Dimmi che muoiono E si gode E si gode! Ragazzi si vince in una live di Codeanad Codeanad guarda Codeanad guarda quanto sono forte Codeanad guardami Codeanad guardami Non ho dovuto farlo Però almeno ho vinto in una live di un cliente Ne sono fiero Ok Mi sto guardando il replay Perché raga lui Come si dice Fa così Cioè Lui ha la live indietro E si vince Raga Una partita Ok raga sta pure guardando a me Vediamo Ma io ho paura E vinco E vinco E vinco luna Ecco E mi è pure crashato dalla felicità E si vince in una live di Codeanad Ragazzi Si vince in una live di Codeanad Vai ragazzi Continuiamo perché noi non si fermiamo qua Vai Qual è il codice? E si vince in una live di Codeanad 2,2,4 Cioè raga Per farvi capire solo che è il vero Vabbè è il vero Potete pure andare a controllare il suo canale Codeanad boss Quindi raga Vabbè lui muore perché sta facendo i provini Ma io sto sfidando altri fortissimi Che sono i suoi amici Fan molto forti Che gli sta facendo il provino Comunque raga Madonna Mi sarei sfruttato di tutto Ma non una live con Codeanad Magari un giorno lo faremo con uno youtuber più forte Con un creator più forte Ma tanto secondo me un giorno Stambul mi darà il creator Vai Dov'è Codeanad? È morto Codeanad Ah eccolo No dai lo volevo ammazzare io Così mi vedo nella live Codeanad sappi che se stai guardando questo video E i tuoi fan non mi abbatteranno mai Capito Ok Ok Vai ok Eppure è morto quello Uuuuuh Madonna Codeanad Non si E raga devo vincere pure questo No Stavo dicendo Oh però ci sta c'è Ok Sono stati un po' sgravati Un attimo che voglio riguardare la live di come mi hanno chillato Raga per questo video è tutto E sono felice di aver vinto contro Codeanad C'è assiglia che mi hanno tristito e ciò che ho avuto C'è assiglia che ho avuto